L'amministrazione di Ragusa è sempre più orientata ai cittadini, all'interazione con loro attraverso gli strumenti più tecnologici. Ne sono la prova i due progetti presentati in questi giorni, denominati O Voto Facile e l'applicazione Città di Ragusa. Parte infatti ufficialmente il nuovo servizio di consulenza online. Grazie ad una società di informatica che ha deciso di donare al comune di Ragusa gratuitamente il nuovo software realizzato, sarà possibile per i residenti della città di Ragusa iscrivendosi alla piattaforma votofacile.it esprimere il proprio orientamento sulle questioni sottoposte dall'amministrazione comunale. Per iscriversi e votare è sufficiente avere con sé la tessera elettorale e il codice fiscale. La prima votazione, che partirà il 1 aprile alle 7, sarà aperta fino al 15 maggio. Riguarderà la destinazione del siti di Villa Margherita. L'altra novità in città è un'app scaricabile in modo molto semplice su qualunque cellulare, che rappresenta una guida proprio alla città di Ragusa con informazioni pratiche e servizi sulla città. Un modo facile per essere informati su quanto succede in città o come promemoria sulla raccolta differenziata. L'app tra le funzioni informa infatti sui giorni di raccolta, ma anche informazioni pratiche sugli esercizi commerciali ricercati o su dove individuare il servizio richiesto, come ad esempio il posteggio o gli uffici amministrativi. Un modo semplice e immediato per essere sempre aggiornati e vivere a pieno la città e i suoi eventi.